Vi abbiamo mostrato poco fa da lontano l'albero sotto il quale è stato rinvenuto il corpo di Francesca De Ida. Il luogo esatto è proprio questo. Ci hanno dato l'autorizzazione a raggiungere il luogo in cui l'assassino ha abbandonato il corpo di questa donna, scomparsa il 10 maggio scorso e abbandonata probabilmente proprio la notte tra il 10 e l'11 maggio. Come vedi ci sono tracce di arbusti tagliati perché il corpo era coperto da questi arbusti e la notizia è che il corpo, i resti di Francesca si trovavano all'interno di un borsone, di un grande borsone nero da palestra. Pochi minuti fa il corpo è stato portato via presso l'Istituto di Medicina Legale di Cagliari. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia e poi sapremo dei dettagli in più sulle condizioni del corpo e soprattutto scopriremo come è stata uccisa Francesca.